Adesso zio Rocco Cosentino ci farà ascoltare una canzone d'amore che il fidanzato dopo tanto tempo è riuscito ad andare a casa della sua amata per la prima volta e dedica questa canzone prima alla fidanzata poi ha avvicinato ai muri di casa. Prego zio Rocco. A quanto tempo ci ho desiderato vennerà a andare a questi loci. Appena appena ci sono arrivati saluto il tuo muro poco a poco. Saluto vostro padre, vostra madre e tutti gli avvicinati di questa locca. Poi saluto a Tiro San Garnate che sei la reginella di questa locca. Saluto funktioni Grazie a tutti.